Nonostante il gelo, il Samoraventura si infiamma per la sfida tra Real Marconianzio e l'Atletico Enebomezia. A partire in quarta sono gli ospiti prima con la conclusione di Faticanti, con Ceravolo in tuffo che gli nega il gol, poi a nono con la lunga gittata di Granata per Russo. Il 10 controlla i macinamenti prima del suo mancino, che però non termina dove sperato. I padroni di casa tentano la reazione con la rimessa laterale di De Micheli per Vaudi e la sua sponda per Ricci. L'11 da due passi porta in vantaggio i suoi. Sotto di un gol l'Atletico sfiora il pari con la lunga gittata di Granata per Terranova, che controlla prima del suo destro, che termina ben oltre la traversa. Al diciottesimo, per un contatto tra Turco e Benedetti, il direttore di gara assegna il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto De Bernardini scolpisce il palo interno, firmando così il 2-0. Da quel momento gli ospiti prendono le redditi della gara e ci provano prima col traversone di Rondinella per Faticanti, anticipato però da Ceravolo. Poi col cross dello stesso Rondinella per Russo, che di testa costringe l'estremo difensore agli straordinari. L'Atletico non demorde e alla mezz'ora, su calcio di punizione, Granata impegnano un poco Ceravolo, che devia in angolo. Pochi minuti dopo però, su un cross di Ciurleo, Faticanti in aria si libera di Manfredino e col mancino accorcia le distanze. Sul 2-1 per il Marconi, nella ripresa, i Pometini si rendono pericolosi con la lunga cittata di Ciurleo dalle parti di Russo, che viene anticipato da Ceravolo. Il Marconi ci prova con la punizione battuta da Re Colani, che trova la pronta risposta di Grossi. L'Atletico riparta la carica prima col retropassaggio di Presta per Rondinella, che dalla distanza manda la sfera ben oltre la traversa. Per il 61esimo con la punizione di Granata e la sponda di Presta per Faticanti, che da due passi sciupa una grande occasione. Anche il Real Marconi ci prova su piazzato. Battuto da Taglienti, la sfera arriva a Fratini, che di testa non inquadra la porta. Gli ospiti non mollano e sfiorano il pari con Faticanti, che apre per Russo. Il 10 entra in area e decide di servire Presta, che al volo trova la pronta risposta di Ceravolo. Al 66esimo Taglienti apre per Ricci. L'11 macina metri prima di schiaricare per Vaudi, che a porta sguarnita firma il 3-1. L'Atletico però non si arrende e al 69esimo, sulla munizione di Granata, per un presunto tocco di mano in area di Maffredino, ottiene il calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Granata spiazza Ceravolo, riaprendo del tutto la gara. 3-2. Il capitano dell'Atletico è su di giri e poco dopo, dalla distanza, mette ancora la prova all'estremo difensore Anziate. Al 72esimo, su punizione ancora di Granata, Capriati di prima intenzione colpisce la traversa. Sulla sfera ancora in gioco, Guardigli non inquadra la porta. Gli ospiti non mollano neanche nei minuti finali. Prima con Faticanti, che scarica per Rondinella. Il 4, crossa per Capriati, che al volo costringe Ceravolo agli straordinari. A pochi secondi dalla fine poi, con la rimessa laterale di Guardigli e la sponda di Russo per Faticanti, anticipato da De Micheli. Presta poi, costringe lo stesso De Micheli a intervenire di nuovo. Ed è tutto dal San Bonaventura. Per 3-2 il Real Marconianzio inizia l'anno con una vittoria.